Contrari Contrari 1.41 versione corretta Mi rimetto all'aula Noi siamo contrari 1.42 Favorevole Contrari 1.43 Favorevole Favorevole 1.47 1 scusi 1.47 favorevole Ci rimettiamo all'aula 1.48 Favorevole 1.53 Favorevole Favorevole Commissione 1.503 Aula Ci rimettiamo all'aula 1.01 Favorevole 21 E' l'invernizio Favorevole Anche noi Perfetto E per quanto riguarda l'articolo 1 abbiamo finito i pareri Cominciamo a questo punto L'esame Siamo all'emendamento 01.01 Dorina Bianchi C'è il parere contrario Di Commissione Governo Favorevole Favorevole Dei Relatori Di Minoranza A questo punto Io chiedo anche il parere del Governo sui relatori Dei suoi sugli emendamenti Ministro lì da lei Suppongo che sia conforme al relatore Conforme al relatore di maggioranza Perfetto Benissimo Io non ho inter... Onorevole Bianchi Prego Allora è lo 01.01 Prego Ritiro l'emendamento Ritirato Benissimo A questo punto Passiamo all'emendamento 1.500 Della Commissione A questo punto Noi abbiamo Onorevole Lombardi Sì Un momento Allora